Firenze parla coreano, alvia il 21esimo Florence Corea Film Fest. 8 superospiti, 4 masterclass, più di 70 film in programma. Questi i numeri della nuova edizione. Quest'anno sarà organizzata una sezione dedicata alle registe, dall'altro saranno presenti anche due registe coreane, con cui organizzeremo anche una masterclass la mattina, e poi appunto il nostro ben amato regista di Parasite, Bong Joon-ho. Il cinema coreano è un cinema molto particolare, anche appreso tra l'altro dalla cinematografia americana, però è anche un cinema nazionale. Si vede ancora una certa caratteristica che è proprio tipicamente coreano, però la tecnologia e anche la modalità per creare un film è molto occidentale. e anche un film è molto piccolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.